Margaux oggi ha la testa fra le nuvole purtroppo abbiamo pagato in due prove e ho recuperato 33 secondi sarà difficile se succede un miracolo magari ce la faccio ancora a fare qualcosina che sta accelerando di brutto e come sta andando? sta accelerando vai! sinistra 6, in destra 4, chiude per sinistra 6, 50 a re in destra 3, meno chiude in posta in sfiora sinistra 4, più per destra 4, meno per sinistra 5, albiri diventa 3, chiude per destra 6, occhio, avvallamenti per destra 5, meno in sfiora sinistra 5, in due tempi in destra 4, più sinistra 5, lunga lunga destra 6, avvallamenti sinistra 5, tienila destra 4, meno subito sinistra 5, sfiora destra 5, lunga sinistra 6, tienila per sinistra 4, lunga in destra 6 per sinistra 6 per destra 5, lunga per sinistra 5, breve destra 6, in destra 6, indosso subito destra 2, lunga sinistra 2, lunga, chiude destra 2, apri sinistra 3, chiude al cemento tienila destra 6, in sinistra 5, sfiora destra 2, lunga, chiude sinistra 4, lunga lunga al cartello sinistra 6 in al re, destra 4, imposta sinistra, destra 6 destra 6, per destra, sinistra 5, sfiora destra 6 subito sinistra 3, lunga in destra 4, lascia in sinistra 4, albiri breve destra 4, più più, lunga e subito albiri sinistra 3, lunga diventa 4, destra 6 per albiri destra 2 albiri destra 2, in sinistra albiri destra 2, in sinistra 4, apri diventa 6, lunga per al cartello sinistra 6, in due tempi imposta al primo e sfiora al secondo in destra 6, 50 destra 5, in due tempi per albiri, destra 4, più subito sinistra 3, meno gira per destra 6, sfiora ancora problema di prima in sinistra 6, tienila in accendo sinistra subito albiri destra 3, lunga occhio, porta fuori sinistra 4, lascia sinistra 4, più più, lunga lunga su, dosso destra 4, diventa 6 lunga e subito albiri sinistra 2, chiude, chiude destra 3, lascia alla fine destra 4, su ponte impostala sinistra 4, lascia destra 5, sfiora in, sinistra 6, sfiora per destra 6, sfiora in, destra 4 in, al cartello sinistra 5, lascia in, destra 6, sfiora per, sinistra 6, lascia in, accenno destro in, al cartello sinistra 6, stringe in, imposta sinistra 5 per, destra 6 tienila in, al muretto molla, chicane stai a destra e entra a sinistra in, al biri destra 4, lunga in, al biri sinistra 2, in due tempi chiude al secondo e subito destra 3, in tre tempi al secondo lascia poi, chiudila in, sinistra 4 meno in, destra 3 e subito sinistra 3 meno avvallamenti in, destra 6 lasciala 50 sinistra destra 5, sfiora in, sinistra 6 e subito destra 5 più lascia 50 sinistra 50 sinistra 6 molla, chicane sinistra entri a sinistra e a destra per, alle case destra 6 subito sinistra 4 e subito destra 3 e subito sinistra 2 gira destra 3 lascia accenno destro e sinistro in, alle case destra 5 vai per, sinistra 5 occhio sudosso per al biri destra 4 breve sinistra 6 sinistra 6 destra 4 lascia in imposta destra 4 chiude al biri tienila sinistra 4 lunga lunga occhio al blu imposta diventa 2 blu diventa 2 per destra 2 meno chiude alla fine subito sinistra 3 lunga apre tienila per al blu destra 4 sinistra 6 sfiora 50 e al re sinistra 5 vai 50 e al blu destra 5 lunga lunga impostala per sinistra 6 sfiora tienila destra 6 subito sinistra 6 lunga in due tempi sinistra 6 subito destra 4 più più 50 e al biri sinistra 4 imposta lascia per destra 6 per destra 6 lascia 50 al cartello sinistra 6 per al biri occhio imposta destra 3 chiude subonte sinistra 4 occhio non stringerla sinistra 6 in imposta sinistra 4 lunga in due tempi chiude al secondo in sinistra 5 lascia in sinistra 5 lascia per alla casa occhio destra 3 lunga lascia in sinistra 5 sfiora destra 6 sfiora sinistra 6 lunga in due tempi destra 4 al cartello sinistra 5 tieni lascia la fine 50 a vista e alla casa destra 3 lunga in sinistra 6 in sinistra 6 in due tempi diventa 5 tienila 50 a vista e al biri destra 3 lunga lascia occhio avvallamenti in al cartello sinistra 6 salto su ponte occhio avvallamenti in destra 6 sinistra 5 meno per sinistra 6 destra 6 meno avvallamenti per destra 6 e subito al biri sinistra 3 lunga lunga occhio lascia avvallamenti in al cartello sinistra 6 lunga lunga tienila 100 e al rovescio destra 6 lascia 50 occhio avvallamenti e al cartello destra 5 meno lascia la fine per al biri tornante destro lungo subito sinistra 6 per tornante sinistro chiude per ai biri destra 3 chiude e imposta in sinistra 4 lascia destra sinistra 6 subito tornante destro chiude destra 6 in destra 6 subito tornante sinistro sale per destra sinistra 5 occhio avvallamenti destra 3 lunga subito sinistra 2 3 lunga subito sinistra 2 in sinistra 6 destra 4 più più in sinistra 4 e subito occhio destra 3 meno meno in sinistra 3 in destra 4 lascia e destra 5 lascia sinistra 6 per chicane destra al campetto albiri destra 2 chiude lunga subito al cartello sinistra 2 chiude destra 6 sporca in sinistra 4 sinistra destra 6 subito sinistra 4 chiude stacca in destra 2 chiude subito sinistra 2 lunga chiude per albiri destra 3 più in sinistra 6 in destra 4 sfiorano breve subito sinistra 3 e albiri sfiora sinistra 4 subito destra 2 e albiri sinistra 3 in al cartello destra 4 lascia destra 3 subito sinistra 2 chiude per destra 5 subito sinistra 3 occhio sporca destra 3 destra 3 chiude in sinistra 3 meno in sinistra 4 meno in destra 4 lunga sinistra 6 sfiora 100 sinistra 4 avvalamenti e subito albiri destra 2 lunga chiude alla fine sinistra 3 in sinistra 2 chiude e subito albiri destra 2 lunga lunga chiude stai largo avvalamenti alla fine per sinistra 4 lunga chiude alla fine per occhio albiri destra 4 lascia per destra 6 sfiora sinistra 4 sfiora subito albiri destra 3 chiude subito sinistra 4 sfiora in sinistra 6 50 destra 5 in due tempi si stringe sinistra 6 destra 4 lunga diventa diventa 3 al rosso e subito sinistra 3 meno destra 4 lunga vai in sinistra 6 per destra 4 breve occhio in sinistra 3 subito diventa 2 destra 6 per al cartello destra 4 sinistra 4 lascia sporca 100 fine grande 10 35 se tutto va bene mi slitta la frizione ah ok 10 58 92 62